La preparazione inizierà ufficialmente martedì, ma la polisportiva già da tempo ha iniziato a muoversi per farsi trovare pronta con la A2, la storica A2. E siccome è fondamentale avere fin da subito testa e gambe sul pezzo, Rossana Pinto ha già iniziato il suo lavoro. Abbiamo iniziato con delle ragazze realmente motivate, abbiamo iniziato con delle sedute di preparazione. La prossima settimana, lunedì, iniziamo con l'effettiva seduta di preparazione atletica. I tempi e i carichi di lavoro sicuramente saranno differenti dallo scorso anno. A livello di acquisti, invece, il roster a disposizione di Michele Pannarale continua ad allargarsi tra facce nuove e raditi ritorni. Nel frattempo c'è già la prima amichevole. Martedì 23 settembre al Polo Borsellino arriverà l'Altamura. La gara è valevole, il primo memorial dedicato a Michele Perrini, il 23enne morto sul lavoro un paio di mesi fa.